video speciale pomeridiano poi penso questa sera uno massimo oltre due video poi basta parliamo sempre come abbiamo fatto anche prima per Cagliari Milan e ieri pure per gli anticipi sempre di campionato calcio giovanile campionato di Serie A1 primavera l'Inter cala il trissi in casa contro la Sampdoria a reti di esposito al 27esimo del primo tempo squizzato al 79esimo della ripresa e all'ottantottesimo cristagno quindi insomma si presenta abbastanza bene l'Inter in questa nuova stagione di primavera e del resto insomma stava arrivando anche alle fasi calienti diciamo delle fasi finali diciamo così della UEFA Youth League poi diciamo non è riuscita ad arrivare lì proprio all'ultimo all'ultimo insomma parte bene il campionato dell'Inter nel 2019 3 a 0 alla Sampdoria bene noi ci vediamo per qualche altro video in questa giornata intanto dopo la pubblicazione di questo mi gusto un po di smackdown e niente ci vediamo nelle prossime occasioni buon pomeriggio a tutti e alla prossima ciao 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 ciao